Ciao ragazzi sono SuperSeba e se state godendo lasciate mi piace E la Germania è fuori dal europeo Prima la fragia e adesso la Germania Aiaiaiaiai fammi godere Aiaiaiaiai auschwidenzenkruki E allora per festeggiare questo godimento Che la Germania è fuori dall'europeo Alla salute bevendo questa bellissima coca cola Zero zuccheri con sponsor ufficiale Euro 2020 E quindi brindisi per il Saugate Che ha preparato benissimo la partita Quindi complimenti innanzitutto all'Inghilterra Facciamo intanto un brindisi anche per Sterling Per i code 1 a 0 E soprattutto per Harry Kane L'uragan Harry Kane è arrivato a Wembley E ha travolto la Germania E quindi è un altro sorso E poi basta Comunque Alla salute Grazie Inghilterra Grazie che hai buttato fuori la Germania E quindi ieri sera abbiamo goduto quando la Francia è uscita a rigori contro la Svizzera E nel giorno dopo Altra biga d'Europa Che ci si mette la Germania Che va fuori dall'europeo Allo Svizzera Comunque Comunque io La partita non me la sono vista tutta ragazzi Ma mi sono visto il secondo tempo Cioè l'Inghilterra che ci provava Tutti i costi a portarsi a casa la vittoria Per evitare di non andare i supplementari E poi Ha fatto una bella figura L'Inghilterra Che ha segnato con Sterling Poi il secondo l'ha segnato Harry Kane Che sembrava Aldo Baio Quello del film E tre muovini da gamba Hai permette signorina Sono il re della gambina E così segna Harry Kane Comunque Ragazzi Altro godimento dopo ieri sera Con la Francia che ha perso i rigori contro la Svizzera E ancora oggi Anche se siamo nel giorno dopo Complimenti alla Svizzera Ai nostri cugini che vivono sopra di noi Che stanno sulle Alpi Ebbene sì ragazzi Comunque Aiaiaiaiai Fammi godere Aiaiaiaiai E la Germania va a casa A casa A casa A casa Germania E ancora oggi Oggi Ieri Oggi O domani O ieri Godiamo ancora come nel 2006 Quando la Francia È uscita dall'europeo E oggi Esce pure La Germania E ancora oggi Noi italiani godiamo come nel 2006 Ehi Grandi Grazie Inghilterra Grazie Comunque Grandissimi gol di Sterling E di Enrique Che sono stati Veramente bellissimi Ed è stata Una bellissima partita A Wembley Che poi Inghilterra si è sbloccata Nel secondo tempo Segnando questi due gol decisivi Per andare ai quarti di finale Va bene ragazzi Se state godendo Vi invito a lasciare un bel mi piace E se il video vi è piaciuto Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Fate tanti Click 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 Mettete la campanella Qua da super se Qua da super se Beh è tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a prossima Auschwitz Sei crookie